Buongiorno e bentrovati, giornalini edicoli alla nostra consueta e quotidiana Rassegna Stampa. Oggi sabato 17 settembre 2022, due gli argomenti principali nelle prime pagine delle testate nazionali. Parliamo ovviamente del dramma delle Marche con l'alluvione a quanto pare inaspettato che ha provocato feriti e dispersi e anche tante vittime. E poi parleremo di politica con l'intervento di Draghi ieri nel Consiglio dei Ministri che ha definitivamente bocciato l'idea di un Draghi bis con le conseguenze anche sul piano del dibattito politico e appunto le ritroveremo nelle prime pagine dei giornali. Poi ancora lo shock energetico e il decreto aiuti, soprattutto ore quotidiani, con approfondimento economico. Andiamo subito a vedere il Corriere della Sera. Ecco Marche, una strage per la pioggia, dieci vittime, tre dispersi. L'accusa dei sindaci, il livello d'allerta era basso, nessuno ci ha avvertiti. Quindi indagano i pubblici ministeri. Il dolore di Mattarella, angosciante, il premier nelle zone colpite. Faremo il necessario in poche ore un terzo delle precipitazioni di un anno. Ovviamente la fotonotizia la vedete al centro della pagina. Si spalla il fango nelle strade il giorno dopo la strage, nelle Marche, dieci morti e tre dispersi. Come vedete di spalla poi tutti gli approfondimenti dedicati al tema. Il viaggio nel fango che distrugge vite e paesi. A otto anni, preso dall'onda, era in braccio alla madre. La storia di Mattia, la donna è sopravvissuta, il bambino è stato ritrovato morto. Il dramma di Adriana, mio marito e mio figlio morti per salvare l'auto. E ancora l'esperto del CNR. Le previsioni sbagliate, limiti dell'algoritmo. E a questo tema è dedicato l'editoriale a firma di Gian Antonio Stella. Riparare la terra, vi reggo solo qualche trafiletto. Succederà ancora purtroppo. Questa è l'unica amara certezza dopo il diluvio nelle Marche. L'autunno sarà lungo, non ci sono amleti o scaramanzie in un paese che scaccia come iettatori licenziati. I re di indicare i pericoli e l'urgenza di svolte radicali. Che possono salvarci dal ripetersi di questi lutti. Se non una seria manutenzione del territorio. Ci vorranno anni, molti, altre strade. Però non ci sono. Lo sappiamo, come spiegò tanti anni fa gli olonganesi. Alla manutenzione l'Italia preferisce l'inaugurazione. Non si vincolano le campagne elettorali promettendo il rifacimento degli argini, la cura delle foreste, il rammendo, per dirla con Renzo Piano, dei troppi errori fatti anche in tempi recenti. Ma è proprio ciò che la cronaca di queste ultime settimane, la siccità di prima e di luvi oggi, ci impone. Papa Francesco lo sa e insiste. È necessario riparare la terra. L'altro argomento al centro della pagina, lo vedete nel taglio medio del giornale, il taglio centrale, Draghi, il no ad altri mandati. Sulle sanzioni critica la Lega. C'è chi parla ai russi, noi più forti di pupazzi prezzolati, ha detto espressamente Mario Draghi. Io di nuovo a Palazzo Chigi? No, il Premier Draghi ribadisce il suo orientamento su altri mandati. Poi ricorda che c'è chi parla di nascosto ai russi, ma la democrazia italiana è più forte di pupazzi prezzolati. E sulle misure antimosca, dice, le sanzioni funzionano. Su questo non sono d'accordo con Salvini. Andiamo a vedere La Repubblica. Anche qui foto notizia al centro della pagina. Sette ore di apocalisse. Pianello di Ostra dopo la bomba d'acqua che ha colpito le Marche. Draghi, ricostruire la sicurezza dell'ambiente. Questa è la didascalia di questa foto che non ha davvero bisogno di commenti. Una bomba d'acqua mette in ginocchio le Marche. In un solo giorno la pioggia di sei mesi. Dieci morti, tre dispersi, fiumi esondati e comuni isolati. Tra ancora Pesaro e Urbino, la rabbia dei sindaci. Nessuno ci ha avvertito. Intanto la procura indaga per omicidio e inondazione colposi. Vedete gli approfondimenti dedicati al tema. Dal reportage a firma di Zunino, come uno tsunami nella notte di Ostra, il pianello di Ostra, il torrente Mise in una secca un mese fa, stava ricevendo piogge da sette ore, sette ore di acqua dal cielo, come un diluvio universale, cioè sei mesi di piogge racchiuse in un solo pomeriggio. Travolti o intrappola storie di vita cancellate. L'allerta che non c'è stata nella regione Modello. Si parla infatti di un'allerta gialla, sostanzialmente, nella comunicazione che normalmente viene fatta dalle regioni, quindi appunto i sindaci per questo motivo sono furiosi contro la mancata comunicazione di quello che si poteva evitare. Pasini del CNR, ora basta, serve cultura del rischio. La lotta al dissesto, 18 miliardi mai spesi. Cantiano, i miei ruscelli di bimbo diventati artiglia. E infine dolce a Senigallia, affogata nella malacqua. Di spalla, Draghi, ci sono pupazzi prezzolati da Mosca. Chissà con Orbán non fa gli interessi degli italiani. La lezione del premier ai leader della destra sovranista, come ho detto poco fa, l'ex premier Draghi, il premier ancora in carica in realtà, fino alle prossime consultazioni elettorali, ha ribadito nel corso appunto del Consiglio dei Ministri, rispondendo ad una domanda precisa, ha ribadito che non ci sarà alcun Draghi bis e ha fatto appunto dei commenti rispetto ai temi appunto che state ascoltando, cioè quelli della guerra in Ucraina e le sanzioni a Mosca. Panetta, ex capo C, a chi parla come Salvini, è influenzato dai russi. L'altra notizia del giorno che rivedremo anche in altri quotidiani, a proposito proprio della guerra in Ucraina, scoperta a Izum un'altra fossa comune e si cominciano a registrare le prime crepe tra Putin e Xi Jinping. In una foresta a nord della città liberata di Izum, infatti ci sono i resti sepolti di circa 500 persone. La stampa, anche qui l'apertura è dedicata all'alluvione nelle Marche, anche qui con una foto che non ha bisogno di commenti. Le nostre vite spazzate via. L'alluvione nelle Marche, 10 vittime, 3 dispersi. C'è anche un bimbo di 8 anni strappato alle braccia della madre. C'era l'apocalisse, nessuno ci ha avvisato. Nel 2014 un alluvione allagò il garage della famiglia Tisba, mandando in rovina l'auto. Per questo giovedì Andrea Tisba, 25 anni, è andata a mettere la 500 al sicuro e non è più tornato. Siamo stati noi, non è una catastrofe naturale. Invece l'intervento di Mario Tozzi. È difficile mantenere accesa la luce del ragionamento mentre il dolore per le vittime e l'indignazione ti prendono alla golla, ma forse è necessario farlo da subito. In realtà c'è un approfondimento all'interno del quotidiano, non solo nella stampa, perché Mario Tozzi interviene anche su altri quotidiani, sullo stesso argomento, con diversi approfondimenti. Ecco la politica nel taglio centrale della stampa. Draghi a Meloni, attenta agli alleati. È un'apertura differente rispetto agli altri perché c'è un riferimento diretto a Giorgia Meloni. Orbán con la destra italiana toglieremo le sanzioni a Mosca, caro Bolletti, aiuti per 22 milioni di cittadini. Il premier, i pupazzi prezzolati dai russi, non ci spaventano da noi nessun partito finanziato dal Cremlino. E poi appunto gli approfondimenti su, intanto il commento affidato a Marcello Sorgi sull'ultimo affondo di Super Mario, e poi il dibattito, la democrazia dei sensi di colpa. Andiamo a vedere di spalle la geopolitica, l'India visa Putin, stop al conflitto, orrore a Izium nuove fosse comuni. E poi l'analisi affidato a Lucio Caracciolo, tra USA e Russia siamo diventati un'altra Taiwan. Il sole 24 ore apre invece con il decreto aiuti TER. Tutte le novità, ancora lo shock energetico in primo piano, credito d'imposto al 40% per le imprese, bonus anche per le piccole e medie imprese, bar e ristoranti, bonus di 150 euro a 20 milioni di lavoratori con un reddito fino a 20 mila euro. Andiamo a leggere qualche rigo. Il decreto aiuti TER da quasi 14 miliardi approvato ieri all'unanimità dal Consiglio dei Ministri dedica il 70% del proprio sforzo finanziario al rinnovo degli sconti fiscali sull'acquisto di gas ed energia elettrica da parte delle imprese. Al tema il provvedimento riserva 9,77 miliardi. L'altra voce di rilievo è presentata dai 2,99 miliardi della replica del bonus anti-inflazione che in questo caso si ferma a 150 euro per i titolari di reddito fino a 20 mila euro lordi l'anno. Altri 492 milioni sono destinati a finanziare l'ennesima proroga, questa volta fino al 31 ottobre, del taglio da 30,5 centesimi su benzina e gasolio. Sul fronte dei crediti d'imposta, quello già in vigore per le imprese energivore sale dal 25% in vigore fino alla fine del mese al 40%, sempre per chi denuncia un aumento dei costi di almeno il 30%. E poi ci sono i focus dedicati proprio ai temi economici. Intanto bollette presiti alle imprese, garanzie gratuite dallo Stato, aiuti con 90 milioni di contributi a teatri, cinema e piscine, carburanti, sconto sulla benzina, come vi dicevo, prorogato fino al 31 ottobre, e poi enti locali, altri 200 milioni per le bollette di comuni e province, ex ILVA, NUECO, di Invitalia per decarbonizzare dote da un miliardo e recovery plan, accelerazione del PNRR, patti educativi 4.0 per gli istituti tecnici. Un'altra notizia interessante che ritroviamo sulle 24 ore, l'intervento del ministro della Transizione Ecologica, Cingolani, che ribadisce ottima possibilità per il price cap, cioè il tetto al prezzo del gas europeo, entro fine mese. Le misure del governo, in questo caso infatti, fanno sì che l'Italia avvii un primo disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas. Il ministro per la Transizione Ecologica, Cingolani, ha firmato il decreto per la vendita di energia elettrica prodotta da rinnovabili, destinata alle imprese energivore, a 210 euro al megawattora. Le altre notizie del giorno le trovate di spalla. Ecco intanto le foto e le didascalie che dedicano appunto un approfondimento al tema della guerra in Ucraina. Fossa comune con oltre 400 morti scoperti a Izium. è la foto che appunto parla di questo incontro tra India e Russia, Xi Jinping e Erdogan. Cina, India e Turchia. A Putin serve la pace. E poi di spalla, Draghi dice no a nuovi mandati. Interferenze russe, l'Italia è forte. Ritroviamo anche qui riferimento all'alluvione nelle Marche, stanziati 5 milioni di euro, odore intense di pioggia, una quantità di acqua mai vista improvvisa, devastante, che ha sconvolto il centro nord delle Marche, terribile il bilancio, 10 morti, 3 dispersi, oltre 50 feriti, un centinaio gli sfollati. L'apertura di avvenire il quotidiano della conferenza episcopale italiana è dedicata all'alluvione nelle Marche. Sommersi dalla pioggia, il disastro imprevisto, una precipitazione eccezionale, provoca lo straripamento del fiume Misa, strage nell'Ancoretano, con 10 morti e 3 dispersi. Di gioveni in notte, resta una lingua giallastra che viola l'azzurro per un paio di chilometri, come se il mare avesse avuto un travaso di bile a vederli morire in nove. Andrea, Giuseppe, Diego, padri, figli sorpresi, mentre cercavano di salvare le loro cose se stessi da una valanga di acqua e fango. E poi due bambini, che non si trovano più. Uno è stato letteralmente strappato dalle braccia della madre che l'ha trascinato fuori dall'auto per salvarlo. E invece hanno salvato lei. Giallo il mare, giallo il teatro della tragedia. Ostra, tre castelli, Betolelle e Barbara, paesi irriconoscibili, coperti di fango, e raggiungibili fino a ieri pomeriggio, quando la protezione civile ha liberato Senigallia, senza sciogliere la riserva sul Misa, il torrente che nella notte precedente ha seminato morte e distruzione. E poi appunto le storie. Mattia strappato dalle braccia della madre. Cambiamento del clima, serve un vero piano. E l'intervento di Provenzale dal CNRR. Anche qui l'editoriale è a firma di Antonio Maria Mira è dedicato proprio al clima. Eventi estremi, stili di vita, adattarci tutti per resistere. Sempre più eventi meteorologici estremi in Italia. Un anno caldissimo, sta facendo pagare il conto. Molto salato, ma non imprevisto. Le distruzioni, i morti nelle Marche, hanno cause molto precise. I mutamenti climatici, certo, ma soprattutto i ritardi nell'adattarsi come singoli, come istituzioni, come sistema paese a fenomeni che purtroppo stanno diventando sempre più frequenti. La politica centropagina, da una parte, Draghi, varia agli aiuti e dice no al mandato bis. Il Copa si richiude il caso, niente fondi russi agli italiani. Leggiamo, discoverte dal Consiglio dei Ministri al terzo decreto aiuti contro il caro Energia. Arriva un nuovo bonus da 150 euro per i redditi sotto i 20 mila euro. 120 milioni al terzo settore, 400 milioni per la sanità, 10 alle paritarie. Estesi a novembre, gli sconti sugli accise, norme più forti contro chi delocalizza. Il Premier dice fra i decreti bis e terzo sono 31 miliardi, non si può chiedere uno scostamento di bilancio ogni mese. E poi l'intervista a Salvini commoscane sul rapporto, priorità il caro Vita, limiti a migranti e ONG, l'intervento del leader della Lega. Gli altri argomenti del giorno in prima pagina, l'attentato a Lugansk e quindi la guerra in Ucraina, la scoperta di una nuova fossa comune a Izium, torture e morte, l'ONU vuole indagare. E poi la notizia di questo ragazzo, diciottenne, colpito da una lastra durante uno stegio, muore appunto un diciottenne, è successo a 90 di Piave. Il messaggero, giornale della Capitale, bomba d'acqua nella notte, marcha in ginocchio, 10 morte e 3 dispersi, Senigallia e Ostra travolte, uragano imprevedibile. Morire di pioggia, questo è il titolo scelto per questa foto che vedete in prima pagina. Il fallimento delle politiche per il clima, questo l'approfondimento a firma di Paolo Balduzzi. Di spalla i servizi, scontro nel fango, la rabbia dei sindaci, nessun avviso, l'allerta, solo gialla. Famiglia spezzata, il bimbo strappato alla mamma, dall'onda impazzita. Il geologo accusa, ecco come vi dicevo, l'altro intervento, qui c'è un'intervista, questa volta Mario Tozzi interviene, e ribadisce, abitare vicino a quei fiumi è un rischio. Politica nel taglio centrale del messaggero Draghi, parlano con Putin di nascosto, l'affondo del Premier, qualcuno è contro le sanzioni, dico no al secondo mandato. La polemica europea, Giorgia Meloni che risponde, difende Orban per tenerlo lontano da Mosca. E infine, riforma fiscale, Palazzo Chigi, Tentel Blitz, bonus 150 euro, 22 milioni di famiglie, balneari, la norma passa, il no leghista. Ci spostiamo in campagna, il mattino, Russia all'affondo di Draghi, questa è l'apertura del mattino, il Premier, c'è chi parla con Mosca, vuole togliere le sanzioni, no al secondo mandato. Caro bollette, bonus da 150 euro per 22 milioni di famiglie, sconti fiscali per bar e ristoranti. La fotonotizia, anche qui, dedicata alle marche, apocalisse di fango, ecco il titolo scelto, strage nelle marche, dieci morti, l'ira dei sindaci, nessuno ci ha avvisati. E l'intervento di Mattarella, ieri per inaugurare l'anno scolastico, il suo discorso proprio sulla scuola, però, ecco, ha parlato di tanti argomenti, ovviamente anche dell'alluvione. Andiamo a leggere Mattarella Alessandro, vita spezzata dal bullismo, il presidente è Alessandro, il capo dello Stato è quel ragazzo pulito, esasperato da angherie, insulti e minaccio da parte dei suoi coetanei. Una storia che fa male, un vuoto troppo grande, troppo ingiusto per passare inosservato, per essere taciuto, nel giorno in cui si celebra la scuola, si festeggiano bambini e ragazzi, la gioia e la fatica di stare insieme. in riferimento è al tredicenne che si è tolto la vita solo una settimana fa perché appunto vittima di bullismo. Andiamo a guardare il resto del Carlino, ci spostiamo, andiamo in Emilia, il coraggio, ecco, questo è il titolo di apertura con la fotonotizia che ritrai una drammatica istantanea di quello che sta accadendo e accaduto nelle scorse ore e continua ancora a registrarsi. Pioggia eccezionale come uno tsunami sulla provincia di Ancona, dieci morti, tre dispersi, le storie delle famiglie distrutte. Gli esperti parlano, impossibile da prevedere, clima impazzito, polemiche sul dissesso del territorio, gli abitanti subito al lavoro nel fango. Ecco, questa è appunto l'apertura. Poi in basso, ritrovate le altre notizie del giorno, bis al governo, Draghi dice di no. Muore a 18 anni durante lo stage, il ragazzo appunto a Venezia, era uno studente. Andiamo a vedere l'eco di Bergamo. Marche tragica alluvione, dieci morte, centinaia di sfollati, anche due minori tra i tre dispersi. La vicinanza di Mattarella e Draghi, entrambi infatti ieri nei loro discorsi, hanno subito espresso solidarietà e promesso interventi proprio per aiutare le marche. Anche qui gli approfondimenti. Con l'Italia fragile non si parli di fatalità, riferendosi appunto alla drammatica situazione delle marche. Poi caso Ungheria, le incognite sulla destra italiana. Taglio centrale invece per un tema economico. L'inflazione corre ancora più 6,9%, Bergamo però risulta essere la seconda migliore provincia. Andiamo ora a vedere la gazzetta del mezzogiorno. L'Italia non russa, questo il titolo di apertura per l'edizione nazionale. Draghi è il paese più forte dei pupazzi prezzolati di Mosca e non è in recessione. Boccia il PD, partito del lavoro. Oggi la Meloni a Bari. Dall'altra parte, vedete sempre in primo piano, Marche, 10 morti, 3 dispersi, appunto la situazione dell'alluvione nelle Marche, uno tsunami sulle colline, il prezzo dell'indifferenza, firma di Umberto Fratino. Andiamo a leggere l'alluvione che ha colpito in quest'ora le Marche. Appare l'ennesima cronaca di un disastro annunciato. l'ennesima occasione nel quale il nostro paese si mostra con tutta la sua fragilità territoriale mentre si piangono i morti e si cercano i dispersi. Andiamo infine a dare un'occhiata all'edicola del Sud. Siamo sempre in Puglia e Basilicata. Bari attira le start-up dati da record nel 2022. L'economia, più di 360, le imprese innovative si sono iscritte alla Camera di Commercio dall'inizio dell'anno. Andiamo a vedere invece le due foto notizie con due argomenti trattati. In primo piano, da una parte i giudici sul caso Agis non fu violenza sessuale, la vittima voleva speculare. Si leggono le motivazioni del riesame e poi il dossier della Fondazione, slogan per avere consenso, Gimbe boccia i programmi dei partiti sulla sanità. E poi di spalla ritroviamo invece gli approfondimenti di politica. La Loredana Capone, la destra vuole ricco solo il nord. Sisto sostiene metta e polemica. Parliamo di mafia e politica. E poi il sistema Otranto, domani gli indagati davanti al GIP. Infine, gli altri temi del giorno. Intanto, la Fiera del Levante, edizione quest'anno particolare e posposta rispetto al tempo originale, cioè ad ottobre. La Fiera si prepara alla campionaria. Bella storia che torna. Questa è il titolo scelto. Braccio di ferro, infine, tra Regione e Policlinico sulle attrezzature dopo l'addio al Covid Hospital. Chiudiamo, infine, con l'altra voce dell'Italia, il Quotidiano del Sud, diretto da Roberto Napoletano, l'importante eredità di Draghi. Questa è l'apertura del direttore e la fiducia degli italiani nel mondo che va preservata e alimentata ancora di più nella lotta alle disuguaglianze, dice Roberto Napoletano. Ritorno alla coerenza meridionalista degasperiana, della stagione di governo e diurità nazionale, tenendo la rotta ferma nelle relazioni internazionali. La coerenza in casa e la trasparenza fuori fanno il prestigio del paese, che vivo forte e leale all'Europa e all'Alleanza Atlantica. Questa è la vera eredità di Draghi, sottolinea il direttore. Sempre la politica in primo piano. Da una parte, Giorgia Meloni voglia un Sud libero non ricattabile e poi Enrico Letta serve il Sud per far ripartire il sistema paese. Un confronto proposto appunto dal quotidiano del Sud nelle interviste a due voci appunto diverse. Andiamo a leggere le altre notizie. Crisi ucraina, obiettivo è non umiliare Putin, decreto aiuti, altri 14 miliardi senza ricorrere all'extra deficit. e infine la politica, Draghi, la nostra democrazia non si fa abbattere dai pupazzi prezzolati. Infine il Movimento 5 Stelle ritrova la sua roccaforte insperata nel mezzogiorno. E con questo è tutto. La nostra rasteria stampa ai giornalini edicola termina qui. Grazie per averci seguito. La linea va alla rete per la consueta. Programmazione vi auguro buona giornata. Grazie.